Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono l'Arella Risata Cancelletto 1 farò la recensione di un film del 1950, i giovani uccidono il giovane poliziotto londinese Andy Mitchell prende in affitto una stanza nella casa dell'agente Dixon che lo guida nei primi passi del mestiere, tuttavia quando Dixon viene ucciso da due teppisti la caccia di assassini a inizio, il mio voto a questo film è 7, ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto mi sono piaciute molto le genere del film, l'interpretazione della sceneggiatura è di genere giallo, la durata è 1 ora e 25 minuti, il regista è Basil de Arden, la regia è buona, bravo regista Paese di produzione Regno Unito, l'attore è Dirk Bogard, bravo attore, nel film anche Jack Warner Jimmy Hanley, Robert Fleming, Peggy Evans, Bernard Lee, Patrick Donan, Bruce Seton, Frederick Piper, Dora Bryan, Gladys Hanson, Meredith Edwards, Clive Morton, Tessi O'Shea, Betty Ann Davis, Campbell Singer, Mariel Ackhead, William Mervin, Michael Golden, Giewin Whitby, Gilsin Jones, Doris York, Jennifer Jane, Anthony Steele, Cameron Hall, Arthur Rigby, Sam Kidd, Melvin Hayes, Arthur Mullard, Rosemary Nichols, Glyn Houston, Jack May, Norman Shelley, John Selwy, René Gadd, Paul Phillips, Glenn Michael, Arthur Lovergrove, Arnold Bell, Charles Houston, Basil Redford, Saluto Anna, Samobrina, Cita, Aliciotola, Mark Wolf, Il Trio Medusa, Michele Trigiani, Favij, Picchiatore, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, arrivederci e al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.